Ho bisogno anche di venditi Venditi, vieni Praticamente Tu fai Balotelli Ma io non mi ricordo la scena Tu fai il portiere Praticamente Pazzini arriva qui, lì c'è Balotelli No? Lo facciamo qui Balotelli, Pazzini Gli dà la palla, Balotelli rimane fermo così Arriva il giocatore del Dere, Bologna Gli toglie e... Ma venditi, non ho visto la scena Non ho visto la scena Tu sei Balotelli Ma non ho visto la scena Io sono pazzini, Balotelli Gli do la palla, Balotelli rimane fermo Perché arriva quello al bolo e ha toglie Ma cosa fai che ti ho dato la palla Grazie amici mondial lux Vi ha vinto la vento, ventitré, bernate di Cino Eccolo qui, facciamolo vedere Lei ha avuto la stessa utilità Nel fare questa scenetta che al pavimento Allora, allora Lei è andato a sbattere con la porta Purtroppo non è stessa Tira a destra, tira da 100 metri Gli do la palla 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 L'onda, l'onda, direct line, l'onda Gli do la palla 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 Allora, Balotelli Vabbè, prendo la sentenza Ecco qui, intanto Adesso cosa combina Balotelli fa Il gol di Balotelli Cioè Addirittura Il gol di Balotelli Fa un passo E da questa distanza Fate attenzione Fa partire il seguente tiro La palla va così E si insacca qui Nulla da fare per il portiere Quasi da fermo Cioè, ripeto Servito Avanza Da questa Dice bene Rulio Uno dice Ma cosa fa? Tira da lì Balla Sciabolata Tira da qui Esattamente a questa posizione Il portiere qui Non si aspetta una conclusione Di questo genere E un tiro fantastico Che va a insaccarsi Qui all'incrocio Ancora la Bolognina Avanti Nove Fischia Sette Sei Cinque Scorri veloce Scorri veloce Quattro Tre Scorri 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 Due Uno Finita 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 33 punti 32 punti Ne mancano solo 8 32 punti Ne mancano solo Col minimo sforzo Guardate